Siamo a Bologna, Benny Benassi, stasera il Benny Benassi and Friends. Musica elettronica italiana secondo me è un bel momento, ci sono parecchi nomi nuovi che stanno uscendo, incontro spesso giovani italiani come Merckham Cremon, i Vinai, in molti festival, in giro per l'Europa, in giro per il mondo, secondo me è un buon momento, è un momento per potersi unire tutti, credo, e per finalmente cercare di fare un festival. Musica elettronica italiana Io quando sento un bel sintetizzatore un po' ogni 80 e la batteria un po' ogni 80 mi emoziono. Quindi probabilmente i miei riferimenti sono quelli, cioè sono da Giorgio Moro, da Depeche Mode, Craftwear, quello è quello che mi piaceva ascoltare allora e che sinceramente mi piace ascoltare ancora. Poi però noi siamo in due, noi produciamo in due, siamo io e Al, lui viene invece completamente da un altro mondo perché lui arriva dal conservatorio e studiava clarinetto e poi il saxofono. Quindi diciamo che all'interno delle nostre produzioni ci sono questi due mondi che in un qualche modo si sono incontrati. Per cui è un po' difficile dire quali sono alla fine i nostri riferimenti musicali. Musica elettronica Stasera sono molto contento perché tutti gli italiani sono stati contenti di venire, stasera suoniamo tutti insieme, quindi vorrei crescere pian pianino, riuscire a fare i passi giusti per poter avere quella credibilità che ci serve per poter poi ospitare anche altri DJ e altri artisti del panorama internazionale. Questo è quello che vorrei fare. Il Benny Benassian Friends cos'è? È una festa fra amici. Questo è lo spirito che vorremmo mantenere, nel senso che quest'anno ad esempio siamo tutti diciamo che siamo tutti DJ italiani e sono tutti DJ italiani con cui in questi anni io ho collaborato, quindi qualcuno di loro ha fatto magari remix per noi, con altri ho lavorato nel club anche qualche anno fa, poi c'è Alberto comunque che è il punto di riferimento radiofonico per la dance in Italia e quindi è una festa fra amici dove ognuno mette mezz'ora di musica. Questo è quello che vogliamo fare e spingere tutti insieme in questa direzione. Questo è. Grazie a tutti.